presentiamo gli spaghetti aglio olio e peperoncino dell'azienda i magnifici del mezzogiorno uno spaghetto tutto italiano forse è meglio dire lo spaghetto italiano lo spaghetto più conosciuto nel mondo i magnifici del mezzogiorno un'azienda tutta piccante un'azienda che si dedica al peperoncino che lo trasforma in diversi modi ad esempio una crema piccante al peperoncino però bio un'azienda che da 20 anni sul mercato 20 anni di qualità e di esperienza andiamo alla ricetta spaghetti aglio olio e peperoncino gli ingredienti che troviamo in questa confezione sono aglio prezzemolo e peperoncino e li potete trovare in diversi formati ad esempio in vetro una confezione piccola per una cenetta in due oppure una confezione un po più grande per una cena in famiglia prepariamo la nostra ricetta molto semplice una ricetta che tutti possono preparare semplicissima quindi abbiamo bisogno di questo preparato che ripetiamo aglio prezzemolo e peperoncino lo versiamo nella padella versiamo l'olio extravergine di oliva questa operazione va fatta a freddo perché serve a far riprendere il prodotto che è disidratato e quindi mettendo l'olio extravergine di oliva a freddo il prodotto si riavviva lo lasciamo nel suo olio per qualche minuto nel frattempo caliamo la pasta in questo caso caliamo gli spaghetti dopo qualche minuto che la pasta cuoce accendiamo il fornello aspettiamo che soffrigge e a questo punto aggiungiamo un mestolo di acqua di cottura controlliamo gli spaghetti e a questo punto sono cotti siamo pronti per andare a fare il nostro piatto saltiamo la pasta e poi impiattiamo finiamo il piatto con un goccio di olio extravergine di oliva i magnifici del mezzogiorno vi augurano buon appetito grazie a tutti